edoardo donna maria sembrerebbe aver messo un punto al rapporto con le sorelle in corvaia durante la permanenza dell'ex vippone al grande fratello vip clizia si era scagliata contro di lui per difendere la sorella micol che si era sentita sminuita dalle parole di donna maria sulla loro vecchia storia per rassicurare la fidanzata antonella inoltre clizia ha anche ribadito più volte di non apprezzare la fiordelisi e di non credere nella coppia dei donna lisi e bene nonostante edoardo fosse andato a casa su alcuni giorni fa per salutare l'amico paolo ciavarro la relazione tra i due sembrerebbe essere definitivamente deterioriata clizia ed edoardo infatti hanno ufficialmente smesso di seguirsi ciò che ha stupito maggiormente però è stata un'altra mossa social del volto di forum il giovane romano ha unfollowato anche micol in corvaia con cui nella casa aveva stretto un forte rapporto di amicizia questo gesto ha scatenato un vero e proprio caos in molti si sono schierati contro edoardo accusandolo di mancanza di lealtà contro una delle persone che le era stata maggiormente vicino dentro la casa secondo tanti donna maria sarebbe ormai sottomesso ad antonella fiordelisi e per questo gli haters hanno addirittura mandato in tendenza il soprannome dall'altra parte però c'è anche chi ha difeso l'ex vippone i fan dei donnalisi sono molto agguerriti e per controbattere alla polemica hanno lanciato l'hashtag donna mania che è a sua volta finito tra le tendenze di twitter insomma è nata una vera e propria lotta lo speaker radiofonico non ha rivelato il motivo per cui ha preso questa decisione ma una persona che pare essere molto felice di questo unfollow è sicuramente antonella fiordelisi l'ex schermitrice ha messo mi piace a vari tweet dei suoi followers che esultavano per questa notizia palesando tutta la sua gioia per la fine dell'amicizia con mi